Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milanelò, a proposito iscrivetevi sia su Instagram la Voce del Diavolo e su YouTube Milanelò. Siamo all'inizio di campionati europei, campionati europei senza neanche un milanista, certamente non è colpa di Spalletti se non c'è neanche un milanista, visto che gli italiani noi ne abbiamo veramente pochi e quei pochi che abbiamo diciamo che non credo che meritino nazionale tipo Calabria, Pobega, Gabbia, Colombo, Maldini, abbiamo pochissimi italiani e quei pochi non sono neanche buoni. Credo che questo sia un problema per il Milan, questa esterofilia spinta che si traduce qualche volta anche in giocatori che sono mercenari, cioè il poco attaccamento, pochissimo attaccamento alla maglia, vediamo squadre che invece storicamente, cioè negli ultimi anni hanno avuto zoccoli duri di italiani, prima la Juventus e adesso l'Inter, devo dire, che questi italiani dimostrano un maggior attaccamento, ma d'altronde è normale. Spero che in questa sessione possano arrivare almeno un paio di italiani a rappresentare bene il movimento, anche perché a livello di giovanili stiamo vedendo che gli italiani sono molto forti. Ma comunque, ci sono tante situazioni di questa società che non vanno bene, questa è una di queste, obiettivamente il fatto di non voler giocatori italiani, e questo non lo capisco, il fatto di non voler dirigenti, allenatori italiani, questo è inspiegabile, questo è veramente inspiegabile, se non perché credono, non lo so, non lo so perché, come dire, gli italiani sono dei rompiballe, nel caso di Conte sono dei rompiballe, e quindi non lo vogliamo, nel caso di Sarri non sono eleganti, quindi non lo vogliamo, e andiamo all'estero. Comunque, non è importante che i giocatori siano bravi, però ci stavo pensando proprio l'altro giorno, rischiamo di andare in campo l'anno prossimo ancora senza un italiano, e veramente sarà una babele, sarà una babele di linque, perché prima c'è stato il gruppo, il nucleo dei francesi, e vabbè, ma adesso ci sono francesi, americani, sono veramente di tutti, di tutti, di tutti i tipi, sarà di tutto di più, certo, c'è una lingua comune che non è l'esperanto, ma è l'inglese, vedremo, come vedremo adesso cosa succede nella campagna acquisti. Allora, l'argomento è il centravanti, abbiamo detto da mesi, giudicheremo la volontà di questa società dal nome dell'allenatore e dal nome del centravanti, due passi ineludibili per il Milan della prossima stagione. Sul sull'allenatore c'è poco da aggiungere, non è sicuramente un allenatore top, è sicuramente un allenatore low cost, che costa molto poco. Ora cominciano a girare voci che sia molto bravo, molto tattico, è considerato un allenatore che ha fatto benissimo in Francia, così vedremo, vedremo, grandi obiettivi non ne ha raggiunti, però è anche vero che non è che lui avesse a disposizione una grande squadra, nella Roma non fece bene, non fece bene, tanti infortuni, tanti gol presi, poi sembra che sia migliorato sotto questi aspetti. Ovviamente mi riferisco a Fonseca, aspettiamo solamente l'annuncio, dicono che l'annuncio non ci sia per motivi di natura fiscale. Vabbè, gli altri lo sanno già, chi sarà il loro prossimo allenatore, ma comunque, ma comunque, visto che sull'allenatore è andata a buca, cioè non è arrivato, io per esempio, sapete, avrei voluto Conte, assolutamente, o in alternativa Sarri, cioè allenatori italiani di comprovata esperienza e che hanno già dimostrato di saper vincere in Italia, comunque, vediamo adesso il centro avanti. Il nome su cui tutti, da più parti, si si è concentrati è Zirzee, che ha una clausola bassa, obiettivamente, di 40 milioni, bassa per un centro avanti di questo livello. Il problema, ce l'hanno sempre detto, il problema sono le commissioni della gente. La gente che però, in questo caso, è stato bravo due anni fa a far mettere una clausola bassa, credendo nel suo assistito, e infatti adesso vuole monetizzare, il che non è giustissimo dal punto di vista della deontologia professionale, perché a che titolo questo procuratore vuole un... come la chiamiamo? Una commissione? Una tangente? Una percentuale? Come la chiamiamo? Sulla clausola e il passaggio. Comunque, vuole un'interessenza, vuole essere coinvolto a suon di milioni. non è deontologicamente corretto, non è etico, secondo me c'è anche qualche cosa di non completamente regolare in questo, perché comunque c'è l'assenza solita delle regole in Italia, se ci fosse una regola che dice il procuratore può prendere al massimo il 10%, il 15%, il 20% del prezzo d'acquisto, allora sarebbe tutto più semplice. Invece c'è una norma, ma è fumosa. Comunque, comunque, si è detto 15 milioni, il Milan non li darà mai, l'ha dichiarato anche Furlani, sembra però che il giocatore voglia stare in Italia, in Italia è il Milan che ha intenzione di pagare la clausola, e quindi probabilmente troverà un accordo intorno ai 10 milioni. Questo è quello che si dice e io di questo sono contentissimo, perché Zirze, è ovvio, non mi dite, ma non è il giocatore, non è Lewandowski, grazie, non è Lewandowski, non è Mappé, grazie, non è Mappé, ma obiettivamente non possiamo pretendere, sarebbe fuori da ogni parametro, da ogni logica, anche per l'Italia stessa, il nostro movimento non permette di compare centravanti di quel livello, non è Halland di quel livello già fatti, finiti, affermati, però Zirze ha delle caratteristiche che sono molto interessanti, è giovane, 23 anni da fare, 1,90, 1,92, cioè un fisico bello, bello, massiccio. Un piede l'abbiamo visto, abbiamo visto sinistro, destro, la capacità di movimento, secondo me, da esaltare, da esaltare San Siro, a proposito, di Decatela, diceva simile, però si vide poi che, obiettivamente, a Milano, era un po', come dire, faceva l'effetto pulcino bagnato, cioè a Milano, soffriva la pressione, si vedeva, soffriva la pressione, appena è andato a Bergamo, si è sbloccato, con un allenatore che l'ha capito di più, ha fatto molto bene, ma Zirze, me lo ricordo, una partita inter-Bologna, gli ha fatti diventare matti, da solo, da solo, ha fatto un gol, dei movimenti, molto, molto belli, quindi vuol dire che non soffre alla testa, per non soffrire la platea, almeno, è vero, giocava nel Bologna, quindi aveva meno responsabilità, ma comunque, un po' di rischio c'è sempre, a 23 anni, dice, ma non è un centravanti, che possa fare veramente, la differenza in area, non è un puntero, non ha tantissimi gol, ma vediamo, vediamo se non ha tantissimi gol, oggi gioca, ha giocato anche molto fuori dall'area, molto di raccordo, perché ha i piedi buoni, no? Ha i piedi buoni, e quindi, magari giocando dentro l'area, farà più gol, ma comunque, è un giocatore da, da Milan, è arrivato, è un giocatore da Milan, e quindi, e quindi, va bene, cioè, ha i piedi da Milan, giocando con Leao, e Pulisic, secondo me, potrà fare molto, molto bene, quindi, io, lo dico prima, sono molto, sarei molto contento, che arrivasse, zirzè, perché poi, magari, non va bene, si dice, ah, ci si lamentano, io dico prima, a me va bene, zirzè, poi, se non va bene, vuol dire che ho sbagliato, va bene, ci può stare, come ha sbagliato altri, però, sulla carta, da quello che vedo, sono contento, quello che non sarei contento, è se, dopo tutta questa attesa, dopo tutte queste premesse, non arrivasse, saltasse fuori un inghippo, e non arriva, non arrivasse, ecco, questo non lo accetterei, questo non lo accetterei, invece, al contrario, ove arrivasse, sarei contento, e direi, beh, la società, almeno da questo punto di vista, ha mostrato, qualcosa di interessante, di coniugare, il campo, lo sport, cioè, un giocatore, che può subito, fare bene, con la lungimiranza, dell'investimento, perché avendo 23 anni, questo potrebbe anche, fare, veramente esplode, diventare un top, e chi lo sa, magari dopo 3-4 anni, andare via, ma, remunerando moltissimo, chi ha investito su di lui, quindi, ha tutte le caratteristiche, questo giocatore, per fare bene, per piacerci, per divertirci, perché noi milanisti, siamo di, come dire, di palato, di palato buono, ci piace, il bel gioco, e, Zirze, può essere, uno spettacolo, veramente, Leao, magari, Leao, in quelle giornate, che fa il Leao, Pulisic, che si è dimostrato, veramente forte, con piedi, molto, molto educati, i piedi di Pulisic, e, Zirze, potrebbe essere, un trio d'attacco, che, che ci fa sognare, ecco, poi, non basterà, Zirze, servirà un vice, servirà sicuramente, ci torneremo, un centrale, e un paio di mediani, davanti alla difesa, e il terzino destro, e poi forse, anche un vice Teo, insomma, la campagna acquisti, non si fermerà, certo, a Zirze, ma intanto, sarebbe un tassello, che io, personalmente, considererei fondamentale, e sarei, come dire, positivamente, meravigliato, dell'azione, di questa, proprietà del Milan, che su tante cose, purtroppo, ci, in particolare, mi fa disperare, e io, come vi ho detto, mi auguro, da tempo, che sia un'avventura, che duri, il meno possibile, vi saluto, alla prossima.